Ciao amici, ovunque ti giri è Black Friday. Ormai gli americani sono riusciti a coinvolgerci in tutte le loro abitudini, ma sono buone o cattive per noi? Chissà. Qualunque sia la risposta, se non le segui, non esisti. Quindi oggi partecipo anch'io al Black Friday. Approfittatene anche voi. Stavo pensando a come girare questo video e mi è venuto in mente un personaggio, il grande Michelangelo Buonarroti. Quasi tutti a scuola abbiamo studiato questo aneddoto. Scolpiva La Pietà, la sua opera più famosa, e diceva ma la statua è già presente dentro il marmo, bisogna solo togliere le parti in eccesso che la coprono. Questo vale anche per noi. Per trasformare la nostra vita nell'opera d'arte che vogliamo, bisogna togliere le parti in eccesso. Nel caso del benessere sono le abitudini inutili, dannose, che non danno energia e vitalità, ma le fanno perdere. Col tempo capiamo che le informazioni veramente utili sono solo quelle che portano a ottenere il benessere e mantenerlo nel tempo. Quindi non si tratta di aggiungere informazioni, ma togliere quelle di troppo, proprio come faceva Michelangelo. Questa è la filosofia che sta dietro il mio lavoro, i miei video, le mie consulenze di naturopatia, i libri, gli ebook. E oggi trovate tutto questo a prezzo speciale in occasione del Black Friday. Così risparmiate tempo, denaro, diventate più efficienti e ottenete di più, ma con il minimo sforzo. Basta perdere tempo, alle informazioni giuste, ci penso io. Studio pratico il benessere naturale da oltre 25 anni e rendo disponibili a tutti le informazioni che conosco. Non perdere questa occasione, può essere il punto di svolta per aumentare il benessere, migliorare lo stile di vita, guadagnare forza, energia e avere più vitalità. Così puoi fare le cose che ti piacciono senza sentirti sempre stanco. Con i miei consigli di naturopatia potrai avere un tuo piano di benessere personalizzato, il passaparola tra amici o su internet va bene, ma qui è molto meglio andare dritti alla fonte delle informazioni corrette. Per questo io do sempre notizie attendibili e verificate dalla mia esperienza. Ma questo lo sapete già, ci conosciamo bene ormai. Allora, torniamo al mio Black Friday. È attivo fino a domenica 25 novembre e in offerta trovate la consulenza di naturopatia a distanza, telefono o Skype, i miei libri sulla salute naturale e numerosi ebook con soluzioni pratiche, precise, semplici, che funzionano bene per diverse situazioni, dalla cellulite al dimagrimento, dalla prostata all'osteoporosi o le ricette per mangiare sempre trendy, sano e buono, come piace a me e come piace a voi. Mi raccomando, cogliete l'offerta adesso prima che vi sfuga di mente con tutte le cose da fare che abbiamo sempre. Condividete anche sui social e con i vostri amici se vi fa piacere che abbiano cura di loro stessi in modo naturale, come voi. Datemi una mano e aiutate anche i vostri amici ad avere tutti i benefici che avete avuto voi, come scrivete sempre nei commenti o via mail. Se avete qualche dubbio scrivetemi pure e vi risponderò subito come sempre. Noi ci vediamo presto al prossimo video, nel frattempo sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!